Finisce 0-0 all'Everkusen tra Ucraina e Italia, azzurri che si qualificano ad Euro 2024, partita che io ho visto non tutta, ho visto diciamo a tratti, ho visto più il primo tempo che il secondo. Nazionale che è partita subito male, partita meglio l'Ucraina con un tiro dalla distanza parato bene da Donnarumma, dopodiché l'Italia è uscita fuori, è riuscita insomma a venire a capo del momento iniziale negativo, ha creato diverse occasioni da gol, un paio su calcio d'angolo, una con Chiesa, clamorosa non si è capito lì come ha fatto a non prendere la porta, e una con una mezza occasioncina in confronto è stata quella di Lorenzo. E poi lo stesso Chiesa, migliore in campo, perché Chiesa migliore in campo fa tutto lui praticamente la nazionale, perché veramente se non c'è Chiesa, e l'abbiamo visto anche con la Macedonia del Nord a Roma, se non c'è lui la nazionale veramente perde proprio di fantasia, e lui ha creato praticamente prima l'azione da gol per Frattesi, parte da sinistra, Chiesa parte da sinistra, si accentra, si fa tutto il campo in buco a sinistra per lo stesso Frattesi che si fa ipnotizzare dal portiere, e poi l'altra per Raspadori, dopo un 1-2 sempre sulla sinistra, mette il pallone in mezzo, e il Raspadori non ci arriva veramente per un tacchetto di scarpa, quindi Chiesa ha fatto veramente tutto da solo, veramente se non ci fosse lui la nazionale farebbe neanche il 10% di quello che fa quando non c'è lui. E che dire, poi il secondo tempo in cui sì all'inizio singolarmente diciamo l'Italia comunque è migliorata un pochino, anche per esempio Buongiorno che aveva cominciato male è migliorato molto nel secondo tempo, nonostante l'ammunizione anche che avesse rimediato abbastanza subito, però poi dopo un po' ho cambiato perché ecco non mi divertivo più, cioè nel senso non mi stavo, non stavo guardando una partita di calcio, sembra che stessi guardando una sorta di agonia, perché a me quando ho le partite di calcio, lo dico con la Juventus, lo dico con la nazionale, lo dico con qualsiasi altra squadra, ma in particolare con Juve nazionale magari perché appunto sono quelle a cui tengo di più ovviamente, però io quando una partita non mi diverte io non ho problemi a cambiare canale, che sia la mia squadra, che sia un'altra partita, perché io se non guardo una partita di pallone non ha senso, se devo vedere in agonia a sto punto cambio canale e basta, non ho problemi a dirlo, l'avrò detto almeno 500 volte e lo diciamo 501, non c'è problema. Poi ecco da quello che ho capito l'Italia è passata al 3-5-2, non ho capito il perché sinceramente mettere Politano al 71 al posto di Zagnolo e farlo uscire al 91 per cambio tattico per mettere Darmian, a me verrebbe da dire per esempio guardiamo Diago Motta in Italia che quando la squadra è in difficoltà invece metti i difensori e metti gli attaccanti. Comunque, Politano abbastanza contrariato perché ho visto ho fatto una faccia che ha anche ragione perché normalmente dici mi metti al 71esimo e mi togli al 91esimo, ma che fai? Cioè togli qualcun altro, togli chi è più spompato, ma perché devi mettervi a me che sono entrato nuovo e fai entrare un difensore? Cioè giustamente Politano sei un po' mezzo scazzato, no? E niente, Italia che poi specie negli ultimi dieci minuti, un quarto d'ora, si è messa tutta dietro per cercare di portarsi a casa lo 0-0 e io era un po' quello che dicevo l'altro giorno, l'errore che non dobbiamo fare è andare lì per giocare per lo 0-0 invece siamo andati lì, è vero nel primo tempo sostanzialmente ci siamo mangiati sto mondo e quell'altro perché se il primo tempo, poi c'è avuto anche un'altra occasione Barella nel primo tempo che non ho detto abbiamo avuto ecco 4-5 occasioni buone, quindi se tu il primo tempo stavi almeno 2-0 non c'era niente da dire, invece tante volte ecco arriviamo magari al limite dell'aria, non tiriamo in porta tante volte preferiamo gestire meglio, tornare indietro, magari sulla fascia per mettere il cross in mezzo c'è una nazionale che deve imparare, sì, anche lei più a tirare da fuori area questo sì, deve imparare ogni tanto, perché questo è stato un problema anche con la Macedonia del Nord che non l'ho detto l'altro giorno, però tante volte, soprattutto quando poi è uscito Chiesa che tante volte la nazionale arrivava lì davanti all'area di rigore e preferiva magari andare da Di Marco sulla fascia preferiva andare da Darmian, preferiva insomma giocare sempre esterno piuttosto che magari cercare la conclusione centrale da fuori area e questo è una cosa che dovrà essere affinata nel tempo cioè cercare più magari le conclusioni dalla distanza e un po' meno la giocatina magari al limite dell'area quello si fa quando c'è la possibilità, quando c'è spazio ma la giocata forzata così non porta da nessuna parte, anzi fa ripartire i contropiedi delle altre nazionali quindi quando c'è l'opportunità ci abbiamo spazio, tirare da fuori e non forzare diciamo la giocata verticale va bene, detto questo, una nazionale che non è stata quella sostanzialmente tanti dicono una bella partita, una bella partita, sì, è stata una bella partita ma fino a un certo punto perché la nazionale avrebbe potuto fare molto di più anche in termini di concretezza, questo sì ha giocato discretamente a parte l'inizio e la fine, non ha giocato malissimo ha giocato una partita discreta nel complesso in generale però certe cose, anche certi palloni a centrocampo andrebbero imparati a perdere di meno perché so palloni che possono fare veramente male e noi stasera, lo dico, perché magari sarà un un popular opinion ma io lo dico tranquillamente noi stasera alla fine abbiamo portato a casa il pareggio anche e soprattutto perché è un po' lo stesso discorso che faccio con la Juve era una nazionale nettamente inferiore a parte qualche individualità tipo Mudrik, Malinoski che è entrato alla fine, Zinchenko ma ecco a parte 3-4 individualità per il resto l'Ucraina è niente in confronto all'Italia quindi tu hai vinto, hai pareggiato perché sei nettamente superiore quanto a singoli rispetto all'Ucraina questo mi sentivo di dirlo perché è una cosa diciamo abbastanza lapalistiana quindi non vedo perché non dirlo questo è il quanto, Italia qualificata Euro 2024 14 giugno, 14 luglio campione in carica in Germania andrà a cercare di confermare il titolo anche se la vedo abbastanza difficile obiettivamente però insomma gli azzurri regaleranno un'altra estate italiana a chi la vorrà seguire ovviamente questo è il quanto e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi